Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di giovedì 31 gennaio. Cielo in genere variabile ma è possibile che vi siano zone con cielo poco nuvoloso e altre con maggiore nuvolosità. Le temperature. Sulla costa 3,6 gradi di minima, 6,8 gradi di massima. In pianura 0,2 gradi di minima, 6,8 gradi di massima. A 1000 metri meno 3 gradi e a 2000 metri meno 10 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani.